Panorama ha un privilegio, ha privilegio di avere un uomo che della passione per le cose che ha fatto, ha costruito una vita. Per molti di noi, per me, che è cresciuto con Zoff, quattro lettere, quando giocava con le figurine, non era bello perché perdesse, ovviamente erano PIN e Zoff, PIN tre e Zoff quattro e perdevamo sempre. Però siamo cresciuti davvero guardando una figura che non ha mai, mai, mai deviato di un centimetro rispetto a quello che faceva, ci ha sempre insegnato e trasferito, pur non conoscendolo, valori che ogni giovane forse dovrebbe avere. Per cui grazie a Dino Zoff per essere con noi a Viterbo per Panorama d'Italia, perché Panorama d'Italia è tutto il meglio visto da vicino e Dino Zoff è un gran bel vedere visto da vicino. Grazie a Marco Cherubini, vecchio amico, cronista, lo conoscete tutti, di Mediaset, di Sport Mediaset, che conosce la storia di Dino e ci porterà con lui attraverso un viaggio che parte da questo libro, Dura solo un attimo la gloria. La mia nonna diceva sempre che non te l'abbia, non te l'abbia, non te l'abbia. Non te la prendere per tante cose, perché è passato Napoleone che aveva gli speroni d'oro, quindi passerà anche questa. Passando dalla nonna di Dino Zoff ai nipoti di Dino Zoff, perché noi dobbiamo dire grazie a Pietro e Clara, che sono due cuccioli, che però sono stati un po' il motore di questo libro, vero Dino? Beh, indubbiamente, anche perché è giusto. Mi fa piacere che magari un domani potessero vedere veramente chi era suo nonno, perché io ho già in età, magari fra qualche anno non mi ricorderò tanti passaggi. Io ho fatto la strada che mi è stata congeniale, perché probabilmente fare il salto di qualità subito magari non ero preparato caratterialmente, quindi fortunatamente ho fatto per gradi. Il mio record, quello che mi sento ancora molto orgoglioso è di aver giocato 11 anni senza saltare una partita. È un altro calcio perché i giovani sono diversi da noi, ecco, non dico che siano peggiori o migliori. Il tempo cambia, i media adesso sono così presenti che non ti permettono assolutamente di fare niente, che sei subito in copertina o alla televisione. Ai miei tempi no, ecco, uno poteva anche tirare giù qualche madonna magari durante la partita. In tutti i mestieri, una volta in tutte le professioni, si doveva fare gavetta, ecco, invece adesso magari ti propongono subito con grandi titoli. Ecco, questo è vero perché anche ai miei tempi, non dico da giovane, ma dopo si guadagnava certamente più di tanti anni, non queste cifre da adesso certamente, però insomma non ci si poteva lamentare. Io ho fatto il portiere per vocazione, ma se diciamo tutto non comprano più il libro qua. Eder. Apparato top, il colpo di testa.